buona domenica ragazzi buona domenica oggi facciamo la colazione con un bel panino ma non sulle casa e la mamma di vasa ci metto l'endigo peggiorno che andicchieri prosciutto buona domenica poi vediamo a susanna tutta panna formaggino o ce lo mettiamo mettiamo formaggino e ce lo mettiamo mistero dell'apertura del formaggino ogni volta per aprire il formaggino è un po' breve del nazionale poi lo chiudiamo e paghiamo la prova dell'assaggio ragazzi buona domenica buon primo di dicembre siamo in fase di entrata del nuovo mese a tutti gli effetti buona domenica ragazzi buona colazione a tutti ecco la panino asciutto e formaggino formaggino buona domenica buona domenica buona domenica ci vediamo a tutti ci vediamo a pranzo e lo so custodiamo oggi di mangiare buona domenica buona domenica buona domenica buona domenica come Grazie.